Resta sempre acceso il dibattito attorno al tema dei rifiuti, al centro la questione del lato unico in Toscana, piano portato avanti dal governatore della regione Enrico Rossi. Lo scorso 19 luglio era stato il presidente della commissione di inchiesta sulle attività illecite connessa al ciclo dei rifiuti, il senatore del Partito Democratico Alessandro Bratti in visita all'impianto di Potere Rota ad esprimersi sulla questione. Io sono un grande sostenitore dell'ambito unico addirittura a livello nazionale, figuriamoci a livello regionale, dopodiché ambiti territoriali vasti quando si fanno delle gare aprono dei problemi di altro genere per cui bisogna contemperare bene le diverse esigenze. Oggi l'Italia è spaccata nettamente in due se non in tre dove abbiamo delle situazioni quasi di emergenza perenne e situazioni dove tutto sommato ci possiamo paragonare con le migliori esperienze a livello internazionale. Però bisogna che queste migliori esperienze a livello internazionale siano messe a disposizione di tutto il paese. La commissione che ha fatto tappa in varie località toscane ha avuto modo di dare il via ad un ciclo di audizioni rivolte a diverse autorità istituzionali, tra le persone ascoltate e anche il sindaco di Arezzo, nonché presidente dell'Assemblea dei Soci Ato Toscana Sud, Alessandro Ghinelli. In Assemblea non è mai stato portato nulla che riguardasse la volontà della regione di costituire l'atto unico regionale. Credo che lo farò la prossima Assemblea, un atto di indirizzo, io chiedo ai sindaci di esprimersi, cerca l'opportunità o meno di dar corso a questa iniziativa, che io ritengo assolutamente negativa per i cittadini. Prima di tutto perché si allontana la gestione del rifiuto dalla gestione, l'indirizzo e il controllo dai territori lo si porta a un livello ancora più alto, quindi ancora più lontano dai cittadini e questo è sicuramente un male. Vi è poi la considerazione che in un sistema squilibrato come quello toscano trovarsi con gli stessi diritti, con gli stessi obblighi del lato centro, che non ha impianti, per noi è rischiosissimo. Credo che molti sindaci non di centro-destra l'abbiano capito e quindi io penso che in Assemblea ci siano buone chance per, ora non dico dare l'alto là che è una brutta parola, ma per far riflettere il governatore Rossi che forse è uno schema che una parte consistente dei suoi elettori non approva.